Ecco, come facciamo noi a cambiare l'aspetto grafico di un sito? Come sapete, dal pannello di amministrazione voi accedete a 12 soluzioni diverse, però tutte preimpostate, 12 soluzioni che in realtà cambiano soltanto per il colore e sulla combinazione, nel senso che abbiamo sul verde, tipo questo, il verde sfumato, il verde tinta unita, lo stesso sul rosso, sul blu e su altri colori. Se uno vuole andare a modificare l'aspetto grafico, deve utilizzare alcuni strumenti. Uno, un browser consigliato che è Firefox, l'altro, un'estensione di Firefox che si chiama Firebug, Firebug. Che, e quindi vi consiglio già questo, di andarvelo poi a scaricare. Cosa fa questa fantastica estensione di Firefox? Che viene poi nel menu automaticamente attivabile. Vi crea nella zona bassa due, diciamo, due riquadri. Uno è il riquadro dell'HTML, cioè del codice, l'altro è il riquadro dello stile. La cosa bella è che spostando il mouse in corrispondenza di una qualsiasi sezione, diciamo, qualsiasi parte della pagina attiva, automaticamente questa viene evidenziata. Cliccandoci sopra, nella finestra sotto dell'estensione, avrete sulla sinistra l'HTML e sulla destra il foglio di stile collegato. A parte il fatto che diventa poi uno strumento per imparare un minimo di codice che a volte vi rende più indipendente, però diventa anche divertente, perché andando a variare un pezzettino del foglio di stile vedete in diretta l'effetto. E già, però queste sono parole. Ma cerchiamo di dare alle parole un senso un pochettino più pratico e più operativo. Per fare questo, andiamo a vedere insieme un piccolo video. Perfetto. Allora, adesso ce lo vediamo un po' sul nostro browser e ci ridiamo appuntamento qua, davanti al mare, tra dieci minuti. Un tempo che... E così poi abbiamo le domande e le risposte. Tra poco. Con questo video tutorial vediamo come cambiare l'aspetto grafico al tema PAS 2011 o, peraltro, per estensione a qualsiasi tema Wordpress. Quali sono i feri del mestiere? Ovviamente, al di là del tema, e quindi essere amministratore del tema, e quindi poter modificare i file style.css, che è il foglio di stile, avere a disposizione un'estensione di Firefox che si chiama Firebug, di cui vedete già qua all'inizio, nella parte inferiore la presenza, nel caso però non fosse ancora presente nel vostro sito, lo scaricate dall'estensione di Firefox, la installate e poi la trovate in Visualizza Firebug. Bene, la prima cosa che vogliamo fare, noi, è quello di cambiare, ad esempio, alcuni colori. Tutto quello che vediamo adesso come modifica del foglio di stile può essere trasferito anche ad altri ambiti, ad esempio cambiare il carattere, cambiare l'interlinea, lo spazio tra i paragrafi, i bordi, insomma, tutte quelle proprietà tipiche del foglio di stile che possono essere modificate attraverso la modifica di qualche valore. Bene, adesso vogliamo modificare questo verdone, questo verdone, peraltro, che compare qua come sfondo del menu principale orizzontale, compare anche qua come sfondo del footer, come colore di questo elemento, che più di conti è un bordo colorato di 1-2 pixel, è il colore, ad esempio, dei vari titoli di livello 2-3, questo è lo stesso verde scuro che c'è in ultima comunicazione, calendario eventi, benvenuti, altro. Bene, vediamo come fare. Allora, una volta che è stata aperta la finestra di Firebug, clicchiamo su questa icona opzione di Firebug, e successivamente su Analizza Elemento. Vedete che man mano che io sposto il mouse, nella parte inferiore cambia la vista, perché è sensibile alla zona in cui io punto il mouse, sia per quello che riguarda l'HTML, zona in basso a sinistra, sia per quello che riguarda la parte del foglio di stile, zona in basso a destra. Quindi mi posiziono in corrispondenza di questo menu principale, orizzontale, studenti, docente o altro, vedete che si è andato a selezionare il div id top bar, clicco in corrispondenza di esso, e vedete qua sulla destra, hanno cancellato top bar, che è il nome di questo div, con in particolare due informazioni sul colore. Il colore del testo, che è espresso in valore esadecimale, cancelletto F0, 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 e il colore dello sfondo, quel verdone, vedete che è 004100. Benissimo. Me lo prendo, CTRL-C, e me lo vado a mettere nel mio blocco note, come promemoria dell'esadecimale da cambiare. Ma con quale colore lo cambio? Ma qui era soltanto la nostra fantasia, questo punto al verde uno poteva farlo sul blu, sull'azzurro, sull'violaccio, insomma, scegliete quello che vi pare. Bene, per fare questo utilizziamo un'altra risorsa web, che è un fotoeditor online, che si chiama pixlr.com, è molto interessante perché ha molti degli strumenti che a noi interessano. Clicchiamo su Open On Photo Editor, si apre questa videata, noi in questo momento non andiamo a modificare un'immagine trasferendo direttamente al computer, vedete quanto è utile. Una cosa molto simile fino a poco tempo fa era il quotatissimo Picnic, che adesso non esiste più, e andiamo a cliccare su Crea una nuova immagine. in realtà non la vogliamo creare, ma vogliamo semplicemente utilizzare adesso uno strumento, il box con gli strumenti, perché vogliamo andare a vedere l'esadecimale, ad esempio, di un colore. Vogliamo stare, non so, poniamo sul viola, prendiamolo un po' scuro, un po' scuretto, vedete che quando io vado qua a selezionare un tipo di viola, poi qua ho anche degli elementi che mi aiutano a sceglierne uno scuro, come mi pare. Facciamo questo forse fin troppo. Facciamo questo qua, sperando che funzioni come contrasto. Ricordate che mantenere buoni contrasti è una delle attenzioni di accessibilità che dobbiamo tenere ben presenti. Pigliamo l'esadecimale, Ctrl-C, e andiamo a sistemarlo qua, nel nostro blocco note, Cancelletto, Esadecimale, in modo da dire, vogliamo cambiare quel colore là con quest'altro. Bene, torniamo adesso sul nostro sito, andiamo in Amministrazione, e eseguiamo direttamente questa modifica. Dove andiamo a farla questa modifica? Andiamo in Aspetto Editor, ci andiamo a prendere il foglio di stile style.css e magari ce lo selezioniamo tutto. Seleziona tutto, Ctrl-C, e andiamo col blocco notes. Creiamo un'altra finestra di blocco note, lo incolliamo, Ctrl-V, e adesso dobbiamo andarci a sostituire, cancelliamo questo qua vecchio, che ci potrebbe fare confusione, e adesso dobbiamo andare a sostituire il Esadecimale Verdone con quello sotto, quindi mi becco l'Esadecimale, senza punte virgola, vado sul mio blocco notes, dove c'è tutto il foglio di stile, modifica, sostituisci, e cominciamo a dire, trova l'Esadecimale Verdone, e con cosa lo sostituisci? Con l'Esadecimale Viola. Ctrl-C, andiamo qua, scusate, ho sbagliato, sul blocco notes, che contiene il mio foglio di stile, sostituisci tutto, e abbiamo fatto la sostituzione. Passo adesso del mouse, seleziona tutto, Ctrl-C come copia, torno sul mio modificatemi di WordPress, seleziono tutto, Ctrl-V, e andiamo a farci un bel aggiornamento. Andiamo a vedere se abbiamo ottenuto l'effetto voluto. Andiamo qua, non mescuola, vedete, è diventato tutto violaceo, quello che prima invece era verdino. Ripeto che poi c'è da controllare anche i contrasti, con qualche strumento web, se vi interessa uno si chiama Contrast Analyzer, che vi consente di vedere se i contrasti di testo sfondo sono allineati con l'algoritmo di riferimento della legge stanca sull'accessibilità delle applicazioni web o dei servizi web o dei contenuti web. Adesso facciamo ancora un altro, un po' come un promemoria, anche se facciamo una piccola variante di controllo indiretta. Andiamo a cambiarci quelli verdi qui, che sono verdi chiari, che sono in pratica le parti riferite al menu secondario e sono anche presenti nelle righe alternate delle tabelle. Facciamo un lavoro analogo, torniamo con il nostro analizzatore, analizza elemento, andiamo a prenderci proprio tutto questo ride sidebar, andiamo a vedere se qua c'è uno sfondo, qui c'è uno sfondo sfumato, non mi interessa in questo momento, qua non c'è, vediamo dove potrebbe essere quest'altro, qui non c'è, magari nella classe colonna potrebbe essere, vediamo un po'. Questo è un background url, per cui no, niente, ancora, vediamo qua, eccolo qua, li abbiamo beccato, vedete, è quel EF6FE, benissimo, questo lo andiamo a cambiare, CTRL-C, ci andiamo a riprendere il nostro block notice, lasciamo un po' di spazio, giusto per ricordarci che è l'altro, ci mettiamo anche il cancelletto, e andiamo a cambiarlo con un altro colore, che potrebbe essere un qualcosa tipo questo qua, però più chiaro, bene, andiamo di nuovo sul nostro photo editor, e andiamo a chiarire lì, a farlo molto chiaro, potrebbe essere questo, una cosa tipo questo, vediamo un po', andiamo a prendere, ma se vogliamo possiamo vedere anche in diretta l'effetto, prima di andarlo a tenere per buono, se vedete come facciamo a vedere in diretta, lo andiamo a sostituire qua, è molto bello fare il bagger, perché ci consente di vedere l'anteprima dei cambiamenti, avviamenti, eccolo qua, è fin troppo scuro, mi sembrerebbe, tutto sommato, c'è il rischio che poi il contrasto non sia sufficiente, allora andiamo a prenderlo un po' meno, questo qua, e mi sarebbe che a vederlo, sembrava decontestualizzato, sembrava fin chiaro, troppo chiaro, ma proviamo, andiamo qua, beh, in effetti forse fin troppo chiaro lo è, però un po' di distanza lo fa, facciamo un briciolino di più, non siamo mai contenti, insomma, andiamo un po', e qui vedete agisco con questo qua, questo selettore qua, magari questo qua ci piace ancora di più, andiamo a vedere, se cambia qualcosa, e quell'altro è troppo vicino al bianco, e insomma, così è già meglio, direi così potrebbe quasi andare, va bene, allora hai passato, il primo controllo, ancora fatto è per il controllo dei contrasti, lo farei dopo, guarda, io ti prendo qua, e ti metto in block notice, andiamo qua, e lo andiamo a sistemare qui, qui sotto, e sarà quello che diventa, la destinazione del cambiamento di quel verdino, riprendiamo nel nostro foglio di stile del block notice, quello appena modificato col violaceo, e andiamo a fare un bel sostituisci, sostituiamo il verdino, con quel violetto, pico rosa e rosellino, diciamo, che è qua, quello qua, ctrl c, andiamo qua, ctrl d, e diciamo, sostituisci tutto per favore, grazie, e andiamo a fare un nuovo, seleziona tutto, ctrl c, torniamo qua, nella nostra bacheca, e diciamo, aspetto, editor, e ritorniamo, per chi piace il nostro foglio di stile, aspettiamo che si visualizza, ecco qua, tasto destro, seleziona tutto, ctrl v, e abbiamo, aggiornato adesso il file, con quell'altro colore, andiamo a vedere se ci funziona, eccolo qua, avete visto, l'ha preso anche qui, insomma, l'ha preso un po' dappertutto, adesso non so se qua ho una tabella, non mi ricordo, però, provare per credere, dove voi avete le tabelle, avrete anche questa modifica, insomma, stiamo già intervendo, su tutto un altro aspetto, adesso vediamo, qualcosa sulle immagini, magari ci accontentiamo di una, e poi la stessa cosa, lo faremo per le altre immagini di sfondo, fondamentalmente abbiamo questa, e poi abbiamo queste qua, più accese per il menu di sinistra, vediamo la prima, allora, ancora una volta, agiamo con il nostro file bug, e quindi, andiamo in analizza elemento, ci spostiamo qua, andiamo a vedere dove ci potrebbe essere quell'immagine, qui, in ul lead, ul, l'indicativo, l'indicatore, scusate, del tag, l'elemento, della lista, non numerata, vedete, qua, che c'è proprio, quell'immagine, che si chiama, middle, sfuma, ok, vedete, middle, sfuma, vediamo se riusciamo a vederla meglio, non si vede il punto jpeg, ma è questa qua, middle, sfuma, punto jpeg, benissimo, dobbiamo andarla a modificare, allora, ritorniamo al nostro foto editor, ma adesso, usiamo in un altro modo, cioè, ci andiamo ad aprire un'immagine dal computer, in questo caso, io avevo già pronte, le immagini qua in locale, che sono le immagini, proprio, del, nostro tema, andiamo a cercarci, il mood, di middle, sfuma, eccolo qua, questa qua, l'abbiamo aperta, mettiamo qua, bella in mezzo, facciamo un bello zoom, con control più, sono più o meno, gli stessi, comandi, che esistono anche in photoshop, e andiamo a fare un bel modifica, seleziona tutto, e lavoreremo qui dentro, con quale strumento, con lo strumento, sfumatura, andiamo qua, di fronte alla sfumatura, e diciamo, dal bianco, a che cosa? Non più a nero, ma volevamo una cosa, tipo, un violetto, vi ricordate? Potremmo prendere, in grosso modo, quel colore, che abbiamo utilizzato, qua, control C, per, fare, adesso qua, però, devo togliere il cancelletto, della verità, per fare, quel tinto unito, più chiaro, control C, vado qua, control V, eh, direi che però, è un po' troppo, chiaro, eh, facciamolo più scuro, di sicuro, potrebbe essere così, direi, eh, facciamolo così, poi magari, leggermente più scuro, lo faremo, nel menu, eh, speriamo che poi, tenga, se poi vedete che il contrasto non regge, vabbè, quello lo modificate, ok, l'abbiamo fatto, adesso, devo andarlo ad applicare, vi metto qua all'interno, non sono riuscito, perché devo fare in modo, di puntare, al modo che venga, si vede, ecco, vedete che si vede, appena appena, una riga, dentro, che è, una riga, che mi dà la sfumatura, eh, poi rilascio, e vedete, è diventata, rosa, poi posso fare due cose, o lo sfumo, lo salvo, cambiando nome, però se cambio nome, devo andare poi a cercare, nel mio foglio di stile, tutto quello che si chiama sfuma, middle sfuma, chiamarlo, non so, middle sfuma, due, poniamo, oppure, lo cambio di netto, e, e, mi basta trasferire il file, perché se io, mantengo lo stesso nome, il file, con, però, uno colore diverso, è ovvio, che viene, poi a essere, diciamo, caricato, quello col colore, siccome io, di questo, ho tantissimi temi, faccio più in fretta, a salvare direttamente, con lo stesso nome, quindi faccio file, e vado a farmi, un bel, salva, però, non da qua, ma dal programma, file, salva, middle sfuma, ok, salvo, così, lo sostituisco, lo sostituisco, il file, sì, ricorda che facendo questo, poi non è più l'originale, quindi, tenete conto sempre di avere, poi, una copia del tema, pronta per l'uso, se poi facciamo pasticce, adesso vado con il file, e la trasferisco, allora, vediamo un po', vedete qua, 17,22, proprio adesso, vado qua, e vado a metterla dove? Nel tema, del corso, WP, quello che sto gestendo io, vado al tema, PAS 2011, ok, poi devo andare, in images, pratica dove c'era già, questo middle sfuma, vedete, che c'era qua, lo prendo, e lo trasferisco, sostituisce, ok, andiamo a vedere l'effetto, se ho fatto giusto, vado a fare, un refresh, ecco qui, l'ha preso, soltanto, dove, dove era, esattamente, nel ul, siamo riusciti, adesso andiamo a beccarci, invece, a vedere dove troviamo, quest'altro qua, evidentemente, eccolo qua, scusate, dovevo soltanto attendere, che, che si, riproducesse, un aggiornamento, a un certo momento, temevo che, ci fosse, magari, un duplicato di nome, con nomi diversi, per dover cambiare due volte, invece, ecco che l'abbiamo fatto, ed ecco, il nostro tema, rosellino, adesso potremmo pensare, di cambiare, soltanto più questo, quello invece, della barra sinistra, per fare questo, il discorso, rimane assolutamente analogo, nel senso che, vado soltanto a vedere il primo pezzo, vado a cercare, ma nell'izzo elemento, capire un po', dove, vedete che, se è cambiato anche, il discorso dell'hack over, cioè, quando il mouse, è sopra il link, andiamo a vedere, dove poteva essere quell'altro, eccolo qua, si chiama, menu sfuma, faccio lo stesso lavoro, con il, menu sfuma, punto jpeg, lo cambio, gli farò una tonalità, leggermente maggiore, per differenziare, oppure, gli metto questa, e quell'altra, la faccio minore, insomma, quello vedete voi, in base, a quello che sono, le vostre esigenze, ricordate poi, soltanto, alla fine, di fare un controllo, sui contrasti, in modo che tutto funziona, in modo che tutto analogo, si può fare, per modificare, fonte del carattere, o qual si voglia, elemento, grafico, che voi volete, compreso, ma è molto più complesso, perché in questo caso, il tema, gioca un po', sul discorso, della compatibilità, con diversi browser, con le nostre barre laterali, più o meno larghe, insomma, quando uno, poi, ha un pochettino più, di dimestichezza, con fogli di stile, può fare tutto quello che vuole, attenzione, dovete cambiare, anche questo qua sotto, che non è stato messo, identico, a quello superiore, che non è stato messo,